Una scuola che ha un significato particolare vuole trasmettere un'idea anche in un certo senso nuova di questo momento così drammatico per i cari? Assolutamente sì, il comparto funebre ha assoluta necessità di crescere e di formare figure adeguate a quelle che sono le richieste attuali della società contemporanea. I corsi di formazione specialistica sono partiti nella nuova casa funeraria della Croce Verde a Baragalla, un luogo curato, silenzioso, accogliente. Nell'aria un gradevole profumo che fa dimenticare di trovarsi in un luogo di morte e dolore, lasciare un'immagine tranquilla e serena del defunto alla base del percorso di formazione degli allievi. Si chiama Tanatoestetica, l'ultima frontiera del mondo dell'arte funeraria, capace di creare opportunità di lavoro a vasto interesse. Reggio, capitale italiana di questa particolare specialità, un comitato scientifico autorevole, indirizzi i contenuti dei corsi. Io personalmente ho studiato in Francia Tanatoestetica, quindi stiamo cercando di riportare quella che è la cultura della sistemazione della salma qui in Italia. Dopo il picco dei decessi per Covid che aveva messo dura prova al settore, costretto ad una profonda riorganizzazione, ora l'attività è ripresa nel modo classico. Aperta recentemente anche un'attrezzata sala trattamenti, simile in tutto e per tutto ad una sala operatoria. Ai corsi arrivano operatori da tutta Italia, una sessantina in appena due mesi, molti giovani, soprattutto donne. Mentre in molti settori si fatica a trovare personale, qui l'offerta in ascesa. Non poche le estetiste che hanno convertito la propria professionalità, tante le imprenditrici. Lei trova personale quando lo cerca. Io penso e mi ha insegnato anche questa esperienza di questo corso che c'è molta curiosità, molto interesse riguardo a questo settore. In campo docenti di caratura internazionale. Italia inizia a imparare questa professione di un livello molto alto. Una cinquantina di pendenti delle onoranze funebri tutto l'utile della casa funeraria viene reinvestito nelle attività del soccorso e per l'acquisto delle ambulanze della pubblica assistenza sempre di Croceverde.